Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi faccio il video Cosa ne penso di The Thing, il board game ufficiale della cosa a cura della Pendragon, che ringrazio immensamente di cuore perché mi hanno fornito tutto quanto il Kickstarter con tutti gli stretch goal, che poi vedete qui davanti, il gioco base, più i suoi stretch goal che sarebbero questi qui con la scatola scura, nera, che sarebbero la scatola base del gioco la versione praticamente retail, le miniature aggiuntive, le miniature della cosa e le miniature dei sopravvissuti dell'avamposto e in più anche l'avamposto norvegese con le sue regole per essere giocato e ovviamente per chi ha visto il prequel della cosa, che apre una piccola parentesi non era un remake, come tanti credevano, era un prequel ci sarà anche la parte finale della battaglia all'interno della nave della cosa e di qua ci sono tutti quanti i set di miniature un gioco stupendo, creato dalla Pendragon, che veramente hanno fatto una cosa spettacolare perché era una vita che da fanatico poi della cosa di John Carpenter aspettavo un gioco della cosa, l'hanno fatto ed è stato un Kickstarter di un successo veramente disumano vi c'ho già fatto precedentemente l'unboxing e oggi vi ci faccio il cosa ne penso dopo la sigla The Thing, The Board Game, a cura della Pendragon è un gioco di... sia di cooperativa perché ha anche una variante per essere giocato da 1 a 3 giocatori totalmente in cooperativa laddove poi alla fin fine la cosa verrà mosso dall'intelligenza artificiale e dalle regole del gioco come avevamo già visto, ad esempio, nella modalità completamente cooperativa di Nemesis della Waken Realms per farvi un esempio ma il gioco base prevede almeno 4 giocatori o meglio, se lo volete giocare nel suo stampo classico nella sua versione classica dovete essere almeno 4 giocatori intorno al tavolo perché è un gioco di inganni un po' mi ricorda anche un po' Battlestar Galactica volendo sempre li va un po' la testa o anche Insondabili che è uscito recentemente dall'Asmo d'Italia e è un gioco laddove noi saremo dei sopravvissuti e il nostro scopo sarà quello di sopravvivere all'avamposto ma per sopravvivere dovremo soprattutto rimanere in vita stando a distanza dalla cosa non facendoci contagiare restando umani che è una cosa di vitale importanza perché restando umani sì, non solo si vince la partita ma non si rischia alla fine di scappare dall'avamposto arrivare nel mondo civilizzato e il discorso principale della cosa qual'era? che se un alieno del genere fosse arrivato nel mondo civilizzato sarebbe stata la fine dell'umanità veramente l'estinzione perché poi la cosa come vi ricordate nei due film nel film e nel prequel si va a moltiplicare e anche a livello di regole del gioco all'inizio la cosa è uno uno di voi giocatori sotto mentite spoglie ma piano piano potreste essere anche tutti quanti contagiati e quindi è quella la cosa bella riuscire a capire ovviamente di essere umano ma riuscire soprattutto a salvare la terra e in questo gioco ci sono vari modi per sopravvivere nel caso siate i sopravvissuti dell'avamposto gli scienziati dell'avamposto perché voi dovete tenere la base in vita quindi la base non deve essere distrutta perché se la base venisse distrutta voi gelereste dal freddo che oltretutto stava arrivando anche una tempesta vi ricordate in inverno e tutto quanto quindi morirete ma potete morire distenti di fame, di sete o come vi ho detto a congelare quindi o base distrutta e avete perso o base integra magari qualcosina qualche stanza da riparare ma senza celle di carburante senza ovviamente aver più la possibilità di riscaldarsi e quindi è anche un survival questo gioco perché dovete sopravvivere all'inverno e allo stesso tempo sopravvivere alla cosa missione della cosa è quella di assimilarvi tutti quanti uccidervi tutti quanti quindi se siete tutte cose il gioco è finito se vi uccide tutti quanti il gioco è finito oppure può giocare anche da nascosto e riuscire ad imbarcarsi nell'elicottero o vabbè nel gatto delle nevi alla fine in alternativa perché se riuscirà a imbarcarsi sull'elicottero e arrivare nel mondo civilizzato avrà vinto la partita quindi i sopravvissuti si devono assicurare di sopravvivere e che niente lasci l'avamposto queste sono le regole principali del gioco il gioco è decisamente discretamente semplice secondo me come regole perché abbiamo l'avamposto in cui noi dovremo muoverci con i nostri personaggi e una cosa bella di questo gioco che a me come idea è piaciuta veramente da morire è che quando arriva la fase di movimento ciascun giocatore prende la sua pedina o nel caso lo standy se avete la versione soltanto retail o se avete le miniature del kickstarter ci sono proprio riprodotte fedelmente come vedete nel corso del video e vi potete muovere in qualsiasi stanza quindi anche se siete in una stanza lontana 3-4 stanze da quella dove volete andare vi ci potete spostare direttamente come unico movimento di turno non potete andare da una parte o da un'altra ma vi spostate da una stanza all'altra e la cosa bella è che quando ci siamo tutti quanti spostati si giocano delle carte coperte quindi ciascun giocatore guarda la sua mano di 3 carte e ne gioca una le carte possono essere o azione quindi l'azione della stanza o una riparazione per riparare la stanza qualcosa di danneggiato o potrebbe essere un sabotaggio un po' come Battlestar Galattica ma la cosa che mi piace da morire è che sarà il leader disegnato a scegliere a chi affidare quelle carte perché magari siamo in 4 4 carte di cui una ha un sabotaggio quindi se il leader è un umano deciderà magari allora questa riparazione faccio riparare la stanza dove c'è McRady che ha bisogno di essere la caldaia rimessa a posto perché se no congeliamo questa azione la do magari a Nails perché è in cucina e magari in cucina abbiamo bisogno di prendere del cibo perché se no moriremo di fame e magari è rimasto un altro riparare e un sabotaggio il sabotaggio lo dovete usare per forza perché una delle 4 carte è messa lì e sta al leader decidere cosa verrà sabotato ed è la cosa bella perché se il leader putacaso è la cosa siete rovinati e infatti la fase successiva è quella di ritrovarsi nella stanza in comune nella hall di accusarsi a vicenda ed è bello perché c'è una barra delle accuse che mano a mano che sale succederanno delle cose in gioco ed è secondo me veramente bello perché quando vi puntate il dito contro a seconda di quanti voti negativi prende un giocatore va avanti nella barra quindi se tutti e tre votiamo McRady di quelli restanti giocando una partita minima in quattro McRady prenderà tre voti contro e la barra salirà e ci sono due test che si possono fare il test del sangue ovviamente come oggettistica lì dovete trovare nel corso della mappa il test del sangue o il test se vi ricordi cioè della sacca di sangue o il test del sangue quello che andava scaldato il ferretto con lanciafiamme per poi mettercelo dentro e lo sapete la cosa reagisce al calore e quindi in quel caso lì l'avrete rivelato subito dal flaconcio di sangue ma la cosa bella è che quando si va a fare quel test il test del sangue lo dovete fare per forza a quello più alto in questa scala che vi ho detto quindi quello più accusato mentre invece il test del sangue quello lo potete fare su chi volete e se quel giocatore subisce il test del sangue ed è la cosa si deve rivelare perché la cosa può giocare in due maniere rivelandosi e quindi a quel punto lì proprio giocherà a carte scoperte e remerà contro i giocatori o nascosto senza farsi rivelare cercando di remare contro mettendo la carta sabotaggio nel momento giusto e nel posto giusto in conclusione The Thing The Board Game a cura della Pendragon è un gioco veramente spettacolare alla portata di tutti e mi sento di dire che a parte il tema prettamente horror forse quindi il film non da farlo vedere a un bambino perché qui John Carpenter lo sapete non vado a spese c'è un conto a Halloween ti metteva la paura non so dove Michael Myers anche magari il grosso guai a Chinatown fa un pochino più ridere ma questo ragazzi questo è stato veramente cattivo c'era gente al tempo che quando lo andò a vedere al cinema svenne c'era gente che scappò di sala un po' al pari dell'esorcista quindi forse per quel tema lì perché a livello di regole secondo me invece ci potete far giocare anche i più giovani tranquillamente quello che vedete qui davanti è la versione retail io mi auguro come detto nel video di unboxing che in Italia arriverà la versione completa cioè non in Italia che venderanno anche nella versione retail tutti quanti gli stretch goal ed è un gioco per me passata a pieni voti e per i fan della cosa averlo punto e basta assolutamente ringrazio Pendragon se lo volete acquistare primo link in descrizione in sovraimpressione dalla gioco libreria semola nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato se andate sul sito e trovate la versione retail in vendita oppure proprio non c'è nel catalogo scrivete al supporto a Corrado al proprietario della gioco libreria semola e fateli presente che arrivate dal canale di Coridan lui se l'ha finito o se proprio non ce l'ha in catalogo farà comunque il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato e usate sempre il codice discount Coridan 7 tutto scritto maiuscolo Coridan 7 di numero per avere uno sconto del 7% e per spese superiori ai 79 euro spedizioni gratuite in 48 ore vi arriva a casa in due giorni in tutta Europa quindi il servizio è veramente della gioco libreria semola impeccabile professionale e uno spettacolo fatemi sapere cosa ne pensate e boh basta bellissimo non vedo l'ora di giocarlo anche se saremo magari in pochi all'inizio di mia moglie però farci una partita totalmente cooperativa ciao ragazzi alla prossima